Assessore Caterina Barbufi, quindi ci parli della presentazione degli eventi cinematografici del mese di marzo. Sì, allora diciamo che gli appuntamenti all'auditorio Unle Fornace proseguono e questo è un fine settimana abbastanza ricco di impegni perché venerdì ci sarà lo spettacolo Donkey Shot e domenica invece ci ritornerà il teatro per famiglia, diciamo per tutti e poi dalla prossima settimana inizierà la nuova programmazione del cinema il giovedì e questo essendo marzo insomma il mese dedicato alle donne ci sarà un film il 10 marzo sempre alle 21.30 che è Piccolo Corpo e per questa occasione l'ingresso al cinema sarà gratuito e insomma abbiamo pensato di scegliere questo film e dedicare un giorno alla riflessione su quelle che sono le tematiche legate alla donna ma non soltanto anche alla capacità di uscire da una situazione complessa e quindi alla forza, alla sua determinazione ma soprattutto anche al dolore che può accadere, alle situazioni legate alla maternità quindi diciamo un'occasione per sensibilizzare anche alle problematiche e alle situazioni femminili ma soprattutto anche alla forza e al coraggio di resistere e di andare avanti alle problematiche, di affrontare problematiche grazie